Il progetto è un grande impatto perché questo progetto sostanzialmente nasce come il tentativo di chiudere una filiera, partire proprio dalla formazione dei formatori, la formazione dei soggetti che in qualche maniera sono interessati, li accompagniamo per l'autoimprenditorialità. Molto importante creare sinergie tra la scuola e il mercato del lavoro, in particolare l'imprenditoria. Noi sappiamo bene che in Sicilia purtroppo la condizione lavorativa per i giovani non è brillante in questo momento, abbiamo il 45% dei net, cioè giovani che non hanno né un impiego né hanno una prospettiva lavorativa vicina. Interpretare la necessità del mercato e di assecondare le richieste degli imprenditori. Per troppo tempo in Sicilia si è fatta una formazione che finanziava soltanto l'offerta, cioè quello che gli enti volevano presentare e a me hanno presentato corsi per parrucchieri dei sedisti che noi possiamo esportare in tutto il mondo. Chiaramente non sono queste le necessità del mercato siciliano. L'accesso a quelle risorse nazionali e regionali che possano consentire a questi soggetti formati di poter avviare impresa. Il tentativo di cercare costantemente dei posti che siano pubblici o statali è impossibile, motivo per cui è importante che questa terra punti anche alla ricerca di forme di autoimprenditoria che possano indubbiamente far sì che questi ragazzi scommettano sulla propria vita su questo territorio che ha tanto bisogno di giovani in gamba. Abbiamo fatto delle regole stringenti che permettono di mettere nella filiera l'agenzia per il lavoro, l'ente di formazione e l'impresa per avere la certezza che i soldi che spegniamo per la formazione e per il tirocinio poi per davvero diano il frutto sperato. Col Fondo Sociale Europeo noi stiamo cercando di spostare la questione sulle esigenze delle imprese. Autoimprenditorialità, studio delle esigenze delle imprese, rivedere tutto il sistema della formazione della regione siciliana e quindi la formazione trovi sbocco lavorativo per quei soggetti che evidentemente formati hanno necessità di lavorare in Sicilia. Spesso e volentieri i giovani non conoscono bene le opportunità e le possibilità che ci sono. Iniziative di questo tipo sono fondamentali perché l'informazione, la pubblicità delle opportunità che ci sono è uno strumento validissimo per riuscire a fargli capire che anche nella nostra terra è possibile accedere a finanziamenti importanti che gli permettano di organizzare il loro lavoro qui. Microcredito ha fatto un'esperienza molto bella, verificheremo sul campo se il risultato ci sarà, io non ho nessuna difficoltà a continuare queste esperienze dopo che tocco con mano gli investimenti che la regione fa e il buon uso di questi investimenti. Questi progetti come Yes i Startup, come Formare per Assumere e altri che stiamo mettendo in campo accompagnati da uno studio, un'indagine fatta da un noto centro di indagini demoscopiche rispondente alle esigenze del territorio e delle imprese che sono in Sicilia. La costruzione di partnership, abbiamo parecchi stakeholders che ci permettono di conoscere realtà che magari i ragazzi attraverso il lavoro curriculare non riuscirebbero a conoscere, favorire iniziative che permettano a questi ragazzi di guardarsi intorno e comprendere quanto è possibile per loro esplorare strade o anche coltivare determinati talenti o che magari non riuscirebbero a scoprire all'interno di una classe con lavoro tradizionale. La prossima settimana presentiamo l'avviso 33, ogni volta che parlo di un avviso parlo di centinaia di milioni di euro, fare questa filiera completa tra la richiesta di chi vuole un'occupazione, la secondare, la tendenza di quel signore che chiede di fare un determinato lavoro e la richiesta del mercato. Abbiamo cominciato con un'inversione di tendenza importante, sicuramente una scommessa, oggi si ricordano di me in negativo perché ho scardinato un sistema e ho tanti nemici, il rischio del mestiere è proprio questo, l'esperienza pregressa è veramente inutile e vergognosa, quindi io non la potevo assecondare.